Il ballo della caga Kennedy Gale contro 500 Il risultato è di 6 a 2 per 500 Andiamo a capire i protagonisti Cognome? Maria Cognome? Aracchi State vedendo 6 a 2 Stavate giocando bene Poi gli ultimi 5-6 minuti avete un po' calato Dobbiamo farcela almeno per il secondo tempo Cosa ci vuole il secondo tempo? E' un po' più di determinazione Grinta E' un po' di fortuna Anche perchè sono stati due gol Loro proprio Fortunati Fortunati Va bene In bocca al loro persone Grazie Secondo me è solo un po' di concentrazione Oltre di cercare di conoscerci meglio In bocca al nuovo per il torneo Anche a loro Ciao Siamo con la migliore in campo Sicuramente Grazie a tutta la squadra Sono riuscita a segnare E' sempre compatte Sì Ancora di più Va bene Ci puoi dedicare la materia a qualcuno? A la nostra squadra Un saluto a tutti Un saluto a tutti Un saluto a tutti